Io sono il datore di stipendi a queste gente qua, abbiamo 600 dirigenti, 1 ogni 18 persone, non abbiamo un dirigente sotto i 30 anni, non c'è un dirigente sotto i 30 anni, allora dove andiamo? Primo, in diacolo è la nostra, arrivo, arrivo. Vorrei farle notare che i giornali si sono entrati, mentre noi abbiamo dovuto discutere con voi, non so se vede quanti giornalisti ci sono, io non ho capito dove si fette. Abbiamo dovuto imporre la nostra... Io ho letto il minaccio, 238 pagine, 238 pagine, una sul web, una. Una sul web, ma come fai a pensare di non diventare intermediale e transnazionale, una televisione con 13 mila dipendenti, ma stai scherzando? Ma questa cosa è interessantissima, che programma faresti? Ma non, ora lascia perdere, io non sono, ormai la mia strada è diversa, la mia strada è diversa, la mia strada è diversa, ci sono le persone adatte qua, non è che devo andare io a salvare la RAI, ci sono persone strani, ma io toglierei esattamente tutte le aderenze, perché non può essere il direttore del PG1, uno come Orfeo, che era al mattino di Napoli e messo lì da Caltagirone, messo lì e ti trovi i casini così. Ma stiamo scherzando, Orfeo deve andare via, Orfeo deve andare via, bisogna mettere direttore dei tre giornali, persone che non abbiano aderenze politiche, fine, non è che poi ti invichi l'amico dell'amico, basta, l'abbiamo vista, l'abbiamo fatto anche un po' sulla conigliera 3.000 dipendenti, vedessi cosa viene fuori.